E' ormai molto tempo che si sente parlare di viaggi della speranza odontoiatrica all'estero per cercare di ottenere comunque la possibilità di minimizzare tempi e costi di terapie. Questo però toglie ovviamente la possibilità al paziente di poter essere supervisionato, di poter avere la certezza della tipologia di materiali impiegati. Però bisogna riconoscere che è una necessità quella di poter minimizzare i costi delle terapie al giorno d'oggi. L'introduzione delle tecniche digitali oggi all'interno degli studi odontoiatrici dà proprio questo grandissimo vantaggio con la qualità, comunque una qualità sempre elevata, raggiungere degli obiettivi terapeutici che sono quelli che i nostri pazienti richiedono con delle tempiste quindi decisamente inferiori e dei costi complessivamente inferiori. Quindi il messaggio comunque penso sia giusto mandare è che cercate nella porta accanto probabilmente troverete delle realtà che sono molto più adatte e molto più utili per le vostre esigenze di pazienti senza dover ricorrere a viaggi oltre confine che portano molto spesso a poco. A campo è sempre stata molto attenta all'aspetto legato alla formazione in odontoiatria. Sono molti anni che organizziamo eventi sia residenziali che online al fine di far sì che gli odontoiatri possano apprendere come utilizzare anche le nuove attrezzature digitali che in questi ultimi anni sono state da parte dei produttori sempre più frequentemente immesse sul mercato. La giornata oggi di Bari con oltre 100 professionisti presenti dimostrano quanto sia un fattore veramente considerato primario e un'esigenza considerata veramente fondamentale anche da parte della categoria. La presenza degli studenti in queste situazioni è sicuramente molto importante perché permette loro di avere idea di come si sta muovendo il mondo della produzione di queste nuove tecniche al di fuori del contesto universitario e nello stesso tempo permette loro di avere un confronto con i professionisti che già operano nel settore e che utilizzano queste tecnologie. Per cavo le sinergie con le associazioni di settore e con le università hanno un ruolo fondamentale per un sano scambio culturale. Poniamo l'attenzione agli studenti creando una serie di seminari che invece portano all'adattamento degli stessi verso tutte le tecnologie e le apparecchiature che andranno ad utilizzare una volta terminato il percorso di studi. Il progetto è nato due anni fa con l'obiettivo di andare a far crescere il segmento dell'odontoiatria nell'ambito del digitale. Un processo di cambiamento che non è soltanto di tipo di processo ma è anche un cambiamento di tipo culturale poiché quando l'odontoiatra si avvicina alla tecnologia si avvicina ad un nuovo modo di concepire anche lo stesso rapporto con il paziente che investe tutta la gestione dello studio odontoiatrico. Soprattutto in questo momento in cui al Policlinico è in corso una digitalizzazione dei servizi, delle ricette è un sistema di rete che è disponibile già dai primi del mese prossimo e prevede la possibilità di una implementazione di tutte le strutture digitali, diagnostiche e per la programmazione terapeutica che assolutamente vanno conosciute e vanno possibilmente acquisite. Stiamo collaborando a braccetto con i vari clinici all'interno di queste grosse strutture dove sono presenti dalle 10 alle 12 poltrone, le con BIM dove c'è tutto il comparto digitale per seguire bene il flusso del workflow lavorativo in modo che sull'investimento di queste attrezzature possa poi avere il beneficio dell'investimento in termini di taglio di costi e ottimizzazione soprattutto dei flussi lavorativi. Tutto questo sicuramente porterà le cliniche ad avere un controllo e una ripetibilità del lavoro anche sotto il profilo della garanzia medico-legale da parte del professionista in modo da poter avere un controllo delle varie fasi cliniche ottimizzabili e soprattutto anche sotto il profilo economico più basso anche per il paziente.